Bene a tutti ragazzi e ragazzi tra il vostro Gigi che ci vediamo, andremo a fare la reazione a brutto che mancano due minuti dieci, video molto veloce, mi chiamo Luis, scusate, 007, andatevi a scrivere, nostro caro amico youtuber, e Treminator, nostro carissimo mod, mancano due minuti, si ghiaccia intanto lo schermo Ciao ragazzi Brawl Stars, Brawl Toy, vai che ci stiamo La montagna ha, nello scivo di sinistra c'è tipo un panda sembra E' fighissimo Tipo un gavettone con un panda sopra E' vero Dai 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 Esatto Ma niente, quanto per mettere Quanto rovescia? Un panda con un gavettone Dieci, due, uno Dieci, no, otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Allora Luis, sei già partito? Via Che figata Entrati No Ho visto una skin d'iris bellissima Che figo No 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 No, ma che figo E' tipo No, fantastico No, non l'ha fatto vedere la ultima Ormai se la fa fanno vedere Ho capito No, mi sembra che tra live Ho capito una cosa Ma è una tempesta di neve Io non l'ho ancora vista Ok, lui si trova sempre la trentesima soglia Io ho visto una cosa Quando colpisci Quando colpisci le persone Aspetta Si carica un coso Tipo Si, si carica tipo Quando va più lento Che bello Io sono in ritardo Aspettate Che figo È bellissimo Se l'inani Poi c'è un botto Con i maz Ecco ci sono le finali Delle Brawl Stars Championship Io me la voglio vedere Ah, dopo me la voglio rivedere con calma Perché Si, esatto Ok, qua normale Io spero vincono i tribe La championship O i tribe o i clash Se giocano Non so chi giocano bene Non so Cioè Ho anche rapine ricercate Bello Ma cosa puoi fare con Publish? Non ci credo Ma Ma Non ho capito Non ho capito Ah, ho capito Allora Praticamente Ogni Tu puoi scrivere Fare la tua La tua mappa Pubblicarla Da tutti E E le persone Te la possono Provare E poi verrà Messa nel gioco Credo No Mi distorcio Ma che è sta cosa Sì Ma ho messo anche il teletrasporto Vedi Ci sta Ma Una cosa Non ho messo Non ho messo Non ho messo La qualità Del telefono Sono un po' schifo Non ho messo E io Secondo me Dovrei chiudere la chiamata Perché non ci ho capito molto Cioè Senza offesa Ok Ok Io me lo devo rivedere No 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 Che parte un fio di caso Via 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 Aspettate Allora Rivediamolo Allora Ok Ok Ah vi saluto Ciao ciao Grazie Allora Praticamente C'è questo piccolo Ehm Cooldown In cui I brawler Credo che vanno Vadino più Piano Gran Figata Mi sembra forte Con il brawler Vediamo un po' La ultima La fanno vedere Ah Sivono No Carino Non c'è uno Ok Ok Bello Dano Non l'avevo ancora visto Fantastico Bello King Lou Sally benissima Shokobar E con i mascarini Ah se lucicano le skin E qua non mi interessa un granché Ok Allora raga ho capito che Allora Ehi fermati Questo Ci sarà questo nuovo Brawler Che tanto avete capito qual è Nuove skin Ma soprattutto La cosa in me È molto bella Quando tu fai una mappa La puoi pubblicare E le persone Possono accettartela Quindi puoi metterla O in game O qualcosa del genere Raga Gran figata Vedremo insieme L'aggiornamento Quando sarà E niente Mi raccomando Like Iscrizione Campanella Ci vediamo Per sempre Ciao 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 Ciao